Allora, mister Bitetto, un'ischia che oggi crea molto in fase offensiva, però soffre anche molto in difesa. Grazie anche alla pericolosità e alle ripartenze veloci, con uomini molto veloci e bravi tecnicamente, quali sono i calciatori del Cosenza. È stata una partita aperta, una partita dove sia noi che loro abbiamo avuto delle buone opportunità per fare gol. È stata una partita, tra virgolette, divertente. Chiaro che per noi perdere poi è diventato bruttissimo, però è stata una gara che magari nessuno si sarebbe meravigliato se fossimo andati noi in vantaggio. E questa è una cosa che non ci capita da diverso tempo. Perina, Super, che in effetti toglie qualche palla dalla porta. Vabbè, lui è bravo. Conosco bene. Lui in queste palle dove deve metterci la sua bella reattività riesce sempre a chiudere la porta così come ha fatto oggi, però ritengo che anche Giuliano in più occasioni è stato altrettanto alla strada d'altezza. Gol subito all'ultimo minuto del primo tempo su palla inattiva. E anche la seconda su palla inattiva. Anche la punizione che ha decretato il vantaggio. Non so che dire. Abbiamo detto parecchio il primo, palla alta, tedeschi, è andato al di sopra di tutti quanti ed è riuscito a piazzarla bene nella parte alta della porta. Mancino che non ce la fa. Un'ischia che è sempre con organico ridottissimo. Ed è un'ischia che deve, se non succedono sviluppi molto molto straordinari rispetto a quelli che so io al momento, non dovrebbero cambiare qualcosa perché se no abbiamo tanti, se non riusciamo a dare qualcuno, difficilmente entrerà in sostituzione. Però in queste cose dobbiamo essere bravi a cambiare e migliorare e altrettanto fortunati in questo caso. Comunque bene, molto bene secondo me Porcino, Calamai, Canutè e lo stesso Giuliano. Sì, loro più degli altri perché anche gli altri sono stati in partita. Anche lo stesso Spezzani come prima partita dopo tanto tempo è stato bravo, regolare, è stato preciso negli interventi, in fase di interdizione e anche lui lascia presagire che magari lì in mezzo forse abbiamo trovato un giocatore che sa sia giocare corto che lungo e sa anche interdire bene. Il Losa sofferente secondo me e ha sofferto anche un po' con la velocità degli avversari. Questo rientra purtroppo nella nostra, fra le altre cose, ci si è messa pure la mala sorta.